Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Serie di incidenti stradali a Fano nella mattinata di oggi ancora coinvolti negli urti motociclisti ed automobilisti Buchi nel pavimento in gomma del nuovo parco urbano di Fano ma da lunedì prossimo sarà tutto sistemato Intanto il 20 settembre l'inaugurazione ufficiale Nuovo governo 5 stelle PD Matteo Ricci rimane sindaco di Pesero e smentisce le voci su di un incarico romano pronto per lui Caro libri e caro scuola tante famiglie le prese in questi giorni con gli acquisti in vista della prima campanella E cintura nera ottavo dandi taekwondo è fanese ed è tra i primi otto al mondo in una disciplina di quest'arte marziale Buonasera benvenuti a Occhio alla Notizia lo avete sentito nei titoli Oggi non è stata una gran giornata sul fronte degli incidenti stradali Ancora due ruote, scooter e moto di grossa cilindrata coinvolte in incidenti stradali con automobili Sentiamo tutto però nella cronaca della giornata Giornata pesante sul fronte dell'infortunistica stradale quella di oggi per Fano Due incidenti potenzialmente molto pericolosi e che hanno visto ancora una volta coinvolti motociclisti ed automobilisti Si sono verificati nell'arco di poche ore l'uno dall'altro Il primo, il più grave, si è verificato attorno alle 10.35 lungo la statale 16 in Viale Romagna All'altezza del distributore di carburante IP Qui uno scooter 300 che viaggiava in direzione Pesaro condotto da un fanese del posto di 36 anni Si è violentemente scontrato contro la fiancata sinistra di una Fiat 500L Condotta da un uomo di 89 anni residente a Fano Che si stava immettendo sulla statale in uscita dall'area di servizio Le esatte dinamiche però sono ancora in fase di accertamento da parte della divisione infortunistica della polizia locale di Fano Che visionerà anche le telecamere poste sul distributore In quanto all'arrivo delle pattuglie sia gli automezzi che il ferito erano stati rimorsi dalla sede stradale E parcheggiati nel distributore e l'infortunato già sotto le cure dei sanitari del 118 Che valutate le condizioni di salute lo hanno fatto trasferire in eliambulanza Atterrata nel campo adiacente al centro politraumatizzati dell'ospedale di Torrette di Ancona Dove è stato ricoverato in osservazione Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi Anche l'anziano conducente in forte strato emotivo è stato trasportato al 118 Al pronto soccorso di Fano per accertamenti pur non avendo riportato in apparenza danni fisici Alle 12.40 un altro motociclista è finito violentemente a terra Cadendo dalla sua BMW 1200 in via Fragheto all'incrocio con via Del Ponte Incrocio già noto per essere stato teatro di altri incidenti Per essere entrato in collisione con un'auto, una Hyundai condotta da un residente di Fano di 52 anni Il centauro, anch'esso fanese di 43 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 E trasportato per accertamenti al Santa Croce di Fano Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere gravi In entrambi gli scenari sono arrivati sul posto diverse pattuglie della Polizia Municipale Che oltre ai rilievi di legge sono stati impegnati principalmente anche sulla Statale 16 A regolare la viabilità evitando così lunghe code e rallentamenti in orari di punta Bene, e lo diciamo sempre, le vostre segnalazioni per noi sono molto importanti E quindi diamo spazio proprio ad alcune di esse Partiamo da una segnalazione che ci ha portato questa mattina nel nuovo parco urbano di Fano All'area dell'ex campo di aviazione dove i giorni scorsi si sono presentati alcuni problemi ai nuovi giochi appena installati Il servizio è di Filippo Pucci A breve il nuovo parco dell'ex campo di aviazione di Fano intitolato Luciano Polverari verrà inaugurato alla città Un lavoro importante, ben visto e voluto fortemente dall'amministrazione comunale fanese Sarà l'area gioco pubblica dedicata all'infanzia più grande del territorio Attrezzata con alcuni elementi che non esistono nel resto della città Così l'assessore Samuele Mascarin ha descritto più volte questo polmone verde Che vedrà tra pochi giorni giocare e animare tutti i bambini e le bambine di Fano e della provincia Dopo aver installato i lampioni per un'ottima illuminazione, una fontanella per l'acqua ed attrezzato l'aria con gli arredi Il parco di Via della Colonna ha visto anche concluso il fondo in gomma per attutire le cadute dei più piccoli dai giochi Ed è proprio qui che nei giorni scorsi sul nostro gruppo reporter di strada ci hanno segnalato i primi disagi È un mese che sono finiti i giochi al campo d'aviazione Guardate come sono già ridotti, si sta staccando tutta la gomma Spero che ancora non sia stata pagata la ditta, scrive in un post su Facebook Pronta la risposta dell'amministrazione comunale che provvederà già dai prossimi giorni a contattare la ditta incaricata L'area giochi del nuovo parco Polverari ha avuto fin troppo successo Nel senso che abbiamo avuto un po' di ragazzi, di bambini che sin dai primi giorni appena terminati i lavori Hanno iniziato ad utilizzare l'aria gioco quando ancora la resina non era pienamente asciutta E questo ha prodotto in 3-4 punti un ammaloramento del tessuto di gomma che riveste l'intera area La ditta ha già fatto insieme al dirigente dottor Giangolini del comune di Fano Un soprologo proprio nella giornata di ieri E in base alle condizioni meteorologiche lunedì interverrà per ripristinare le parti che sono state danneggiate Danneggiate con impronte a forma di scarpe per cui insomma è abbastanza chiaro anche diciamo Rinvenire un po' quello che è stato diciamo l'accadimento Approfitto dell'occasione per ricordare che tra qualche settimana Ristituiremo finalmente ufficialmente quest'area alla città Che già adesso per la verità anche alle mie spalle è ampiamente utilizzata da bambini e dei bambini E quindi il 20 di settembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'aria giochi del nuovo parco Luciano Polverari E in quell'occasione il sindaco Massimo Seri annuncerà una serie di novità e anche di belle sorprese Per tutti coloro che amano il parco e che in generale si aspettano un riutilizzo Come dire ampio, articolato anche di natura sociale di tutta quest'area E rimaniamo sulle vostre segnalazioni perché sicuramente non è uno bello spettacolo Quello che alcuni residenti di Rosciano di Fano stanno ammirando da ieri Una ditta incaricata del verde ha tagliato i giorni scorsi le erbacce e gli arbusti Presenti lungo le vie vicine alla nuova rotatoria di Rosciano vicino al Codma Come vedete appunto nelle foto che vi stiamo mostrando la rete Che delimitava una volta la strada di via Galilei, ora via Beretti Dal centro ortofrutticolo si trova in uno stato di totale abbandono e degrado Alcuni residenti e passanti ci segnalano che sarebbe opportuno intervenire E togliere la rete pericolosa per rendere più bella la zona E soprattutto più sicura anche per pedoni e ciclisti Parliamo di politica, ci spostiamo sulla politica anche a livello nazionale Tutti sapete del governo PD 5 Stelle Ebbene il sindaco di Pesaro Matteo Ricci interviene sulla giostra Appunto di commenti e voci che lo davano già con le valigie pronte per Roma Per ricoprire un prestigioso ruolo da sottosegritario E come suo stile fa invece sulla sua pagina Facebook Smentisce tutto e si legge appunto in un post Mi dispiace per voi ma dovrete sopportarmi ancora Pesaro Ringrazio chi ci ha pensato ma non andrò a ricoprire ruoli di governo E rimarrò a fare il sindaco La legge, continua Ricci sul suo post, solo in Italia Rende incompatibile il sindaco con ruoli di governo nazionale Dovrei quindi dimettermi da primo cittadino dopo pochi mesi dalla rielezione E non lo considererei serio e rispettoso nei confronti dei pesaresi Inoltre sarebbe lontano dalla mia idea di politica a servizio del cittadino Continuerò ovviamente a fare politica nazionale nel mio partito E in rappresentanza dei comuni e degli enti locali Il tutto per fare pesare sempre di più la città e il nostro territorio a livello nazionale Questo appunto che abbiamo letto era il post sulla pagina Facebook di Ricci E Ricci Pensiero quindi cambiamo argomento Molti genitori, molte famiglie sono impegnate in questi giorni In attesa della prima campanella con i libri di scuola E quindi vediamo quali sono gli strumenti, le armi che si possono mettere in campo Per attutire l'impatto economico sul bilancio familiare Sentite Il digitale e le nuove tecnologie sono entrate e lo faranno ancora di più Di prepotenza anche nel mondo della scuola Registri elettronici, lavagne digitali ed e-book Ma ancora e nonostante ciò i testi scolastici rimangono insostituibili Gioie e dolori per famiglie e studenti Questi ultimi perché devono passarci sopra ore e ore E per le famiglie perché il costo della scuola È una delle voci sempre più impattanti sul bilancio familiare Un mercato, quello dell'usato, quindi sempre in crescita Tra mercatini, passamano spontanei e negozi specializzati in questo mercato Come affano ormai dagli anni 80 Dove per 3.500 famiglie con il libro usato E la compravendita di testi di seconda mano Il colpo, per così dire, viene attutito abbastanza Ma comunque parliamo sempre di diverse centinaia di euro Per ogni figlio in età scolare Ormai le famiglie cercano libri che non hanno trovato in giro d'amici Ecco, qual è la spesa, insomma, più o meno a famiglia? Varia da scuola a scuola, ovviamente sulle medie Parliamo di nuovo ovviamente circa sulle 300-320 euro Per una fornitura completa, dizionari esclusi E per le superiori varia dagli istituti professionali e licei Siamo attorno ai 280-320 euro, dizionari esclusi Ci sono alcuni dizionari che costano veramente tanto? Tantissimo, basta pensare al dizionario di latino o al dizionario di greco Costano l'uno circa 120 euro Ecco, c'è però l'opzione dell'usato? Per quanto riguarda l'usato Risparmiano il 40% su quelli che comprano E hanno la possibilità di rivendere altri libri Quindi risparmiando ulteriormente Ovviamente non riusciranno a vendere tutti i libri Perché come capita tutti gli anni Ci sono dei cambi di adozione oppure di nuove edizioni Vendendo 100 euro di libri si incassano dalle 25 alle 40 euro Più sono malconci e meno valgo Esatto, perché purtroppo ci sono alcuni libri che vengono maltrattati Ma non solo esternamente ma anche internamente E noi cerchiamo comunque di fare una valutazione anche in base al libro A volte l'acquisto di libri è una vera corsa ostacoli per le famiglie E ogni tanto ce n'è uno in più Quest'anno hanno inventato il NEST, un nuovo esame di Stato Ma di nuovo praticamente c'è solo il bollino sulla copertina Hanno riportato questa scritta Nuovo esame di Stato Ma internamente il libro è praticamente identico Abbiamo controllato pagina per pagina Facendo in questo modo loro ovviamente cambiano il codice E potrebbero cambiare anche il prezzo Cosa che non è possibile a livello legale Perché le case editrici per poter fare una cosa del genere Dovrebbero cambiare almeno il 30% del contenuto del libro Invece se noi sfogliamo i libri L'apriamo alla stessa pagina Ecco qua Pagina 283, il libro identico Andiamo avanti Praticamente i libri sono uguali Il codice è cambiato ed è cambiato anche il prezzo Questo è il codice di quest'anno 2019 Questo è il codice degli anni precedenti Quindi mi raccomando studenti Trattate bene i vostri libri Perché sono un capitale nelle vostre mani La scadenza del 16 settembre si avvicina E la prima campanella quindi suonerà per tutti gli studenti Oltre ai libri che già pesano come un macigno Sul portofoglio di mamma e papà Ci sono anche il kit dello studente Che si aggira mediamente sui 100 euro pro capite Ma a seconda di che si frequenta Se elementari o medie le cose cambiano Per elementari diciamo sempre il classico zaino Che giriamo dai 60 ai 80 euro Ecco i più economici girano sui 60 euro Poi abbiamo una spesa incidente L'astuccio triplo Quello gira intorno ai 30 euro Il discorso della cancelleria Soprattutto per elementari Non abbiamo tantissime parti i colori Mentre invece per le medie Lì si sale parecchio Perché cominciano a richiedere tutti Gli album tecnici Materiale per il disegno Abbastanza tecnico Quindi insomma vedo Che la gente quando viene con la lista Va dai 60 ai 90 euro Tranquillamente Quest'anno però possiamo dare una buona notizia Non ci sono i rincarii decisi Io i grossi rincari che sul materiale cancelleria Non l'ho avuto quasi per niente Un pochettino la carta è aumentata Quindi 50 centesimi il diario Insomma ecco non ci sono state rilevanze Inconsistenti insomma Il diario è un'altra componente immancabile C'è nello zaino di ogni studente E quali sono insomma quelli che stanno andando per la maggiore? Allora il classico ormai è il BU Seguito dalla Comics Che è magari un pochettino più maschile Una volta andava un tipo di diario per tutti Adesso invece la gente piace cambiare Diversificarsi Quindi stanno pensando ad avere almeno 10 modelli di diario in più rispetto all'anno scorso Mame e studenti quindi sull'orlo di una crisi di nervi Si aggirano in questi giorni nervosamente per supermercati e cartollerie Alla ricerca di uno zainetto nuovo Nel caso si tratti del primo giorno di scuola O del diario per il prossimo anno E come in tutti i casi Non mancano le ultimissime novità I più stilosi potranno scrivere con una matita Che ha anche una piccola luce LED in testa Oppure i nuovi evidenziatori dai colori pastello Meno pacchiani dei più comuni arancione e fucsia fluorescenti Oppure a scanso di equivoci Comprarsi una penna con soprascritto il proprio nome Per evitare che la propria venga confusa con quella degli altri Anche per gli astuci tripli ci sono novità Soprattutto per la gioia delle mamme Oltre ai soliti modelli e fogge diverse Grazie ad un modello interamente fatto in materiale lavabile e plastica Dopo un duro lavoro di un anno Si può mettere tranquillamente in lavatrice E riportarlo per così dire a nuova vita A patto però di togliere penne e pennarelli A meno che non si voglia un bucato arcobaleno Per zaini scolastici e zainetti Anche qui il mercato ha molto da offrire Oltre a un ritorno della sempreverde cartella Soprattutto per le femminucce La novità riguarda gli zaini trolley Che ora sono anche staccabili dalla struttura rigida Diventando così un normale zainetto a spalla Queste cose fa venire voglia di ritornare a scuola Comunque cambiamo argomento Con grandi risultati La collaborazione tra centri estivi sportivi Jump di Fano e Aset Ancora una volta hanno unito le loro forze Per rendere i bambini più consapevoli del mondo Che li circonda Un mondo che va amato rispettato a partire dai piccoli gesti Nei giorni scorsi infatti Alcuni responsabili di Aset Assieme all'associazione On Stage Si sono recati in tre centri Bellocchi, Campo da Rugby e Circolo Tennis e Sant'Orso E hanno ottenuto un laboratorio didattico Spiegando attraverso video e giochi Come effettuare una corretta raccolta differenziata In totale sono stati 150 i bambini Coinvolti in questo progetto educativo Bambini rimasti entusiasti Nel vedere il processo Che una semplice bottiglia di plastica Compie quando viene gettata Nell'apposito contenitore Per poi essere lavorata Nei macchinari specializzati Fino al suo riutilizzo Sotto altre forme Oltre a foto e video La parte conclusiva della mattinata È stata riservata al gioco dell'eco Che ha portato i bambini Attraverso un percorso a tappe Ad ampliare la loro conoscenza In questa materia Ebbene Tutti entusiasti i bambini I bambini naturalmente Dal punto di vista ecologico Saranno la risorsa del futuro Chiudiamo con un bel servizio Un servizio in ambito sportivo E agonistico Perché le arti marziali Continuano a regalare A Fano grandi soddisfazioni Dopo gli atleti della scuola Yang Long Che tutti abbiamo visto Nei servizi che vi abbiamo proposto Che hanno partecipato I mondiali di Kung Fu Ad Hong Kong Portando a casa Tante medaglie Ebbene Un altro fanese Si è piazzato Ottavo al mondo In una disciplina Del Taekwondo Ai mondiali Che si sono disputati Recentemente In Corea Sentiamo la sua storia Il fanese Gabriele Giuliani È tra i primi dieci al mondo Ottavo per la precisione In una disciplina Del Taekwondo L'eccezionale risultato Giuliani Uno dei fondatori Della SD Taekwondo Fano Lo ha conseguito Durante i mondiali Di Hanma Dang Che si sono disputati In Corea Dal 26 al 30 luglio scorso Giuliani È stato tra i pionieri In zona del Taekwondo Iniziando a praticarlo Già negli anni 70 In pieno boom Delle alti marziali Affascinato Come molti Anche dal filone Cinematografico Di quegli anni E poi Aprendo diverse scuole In tutta la provincia Fino ad arrivare Lui stesso Ai giorni nostri Ad essere una cintura nera Ottavo d'anno Un bel risultato Questa gara Che si chiama Oburte Quando Hanma Dang Voglio specificare Che è un torneo Particolare Che è rivolto Atleti di tutto il mondo E riguarda Solamente Varie Tecniche Tra le cui Le forme Che partecipo io Poi le rotture Con il taglio della mano Con il pugno Salto in alto Salto in lungo Rompendo le tavolette Insomma Una serie di prove Particolari Partecipano Circa 5.000 Atleti Da tutto il mondo È diventata Una gara straordinaria Qualificarmi Nei primi dieci È stato un risultato Il miglior risultato Di tutti i tempi Le arti marziali Prima di ogni cosa Sono una scuola di vita Oltre che di sport Dove il rispetto Per l'avversario La disciplina L'equilibrio E l'autocontrollo Accompagneranno L'atleta In tutta la sua vita Sì perché queste discipline Non hanno limiti d'età Le arti marziali Non sono violente Aiutano Ci insegnano L'autocontrollo Tutti abbiamo bisogno Bene o male Di sfogarci un po' Il fisico Ce lo chiede La mente Ce lo chiede Lo stress È una delle cause principali Oggi Del malessere Quindi Le arti marziali Sono un rimedio Oserei dire Essenziale Per la vita moderna Molti pensano Che praticare Le arti marziali Sia una cosa Riservata Ai giovani Ai ragazzi Eccetera È sbagliato questo Perché Tutti possono praticare Il taekwondo Dobbiamo imparare Tutti noi A essere protagonisti Nello sport Non spettatori Bene Chiudiamo qui Questa edizione Del nostro telegiornale Grazie per essere stati In nostra compagnia A seguire dopo di noi Le normali Programmazioni Di Fano TV Però prima di lasciarci Vi ricordo Il numero che vedete In sovrimpressione Che potete utilizzare Per entrare in contatto Con la nostra redazione Grazie L'informazione torna domani mattina Alle ore 7 Con occhio ai giornali Buona serata a tutti voi